ebbene carissimi amici ben ritrovati come sempre sul mio canale youtube un buon sabato a tutti voi quest'oggi vengo qui sul mio canale per parlare ancora una volta dei miei bellissimi favolosi e vincenti software e parlo ancora del software 3 il software trick e reduce da una vincita pazzesca fuori dal normale dove ha pagato addirittura un doppio terno secco a ruota secca e trovate il video sul mio canale ma poi lo andiamo a rivedere dopo quella vincita vi ho detto prendete il programma perché bisogna cavalcare l'onda subito ci sono tanti di voi che aspettano aspettano alla finestra e vediamo e vediamo cosa se vince e vediamo e vediamo e intanto si perdono le vincite il software 3 nell'estrazione di venerdì 19 c'entra un altro bellissimo esito vincente il programma ad ogni estrazione vi calcola la previsione in automatico che voi dovete giocare per tre colpi di gioco eccolo qui ok in data 16 luglio il software elaborava questa previsione qui della revisione viene elaborata prima ok ed è tutto scritto nero su bianco 77 bari cagliari con i 4 ambi secchi e i due abbinamenti per il terno cosa succede al primo colpo il 77 shabari vi ho fatto vedere dall'analisi estrazione come il 77 a bari si è ripetuto e cosa è successo che al secondo colpo si ripete il 77 a bari ed esce l'ambosecco 77 45 incredibile cari amici oltre ovviamente a tutti gli ambi in terzina vinti perché giochiamo le terzine non ci portiamo a casa l'ambosecco più tutti gli ambi in terzina quindi immaginate nell'arco di due colpi che altra bellissima vincita è questa allora un software 3 come anche il software più che invece gioca in due colpi sono due programmi assolutamente da prendere non bisogna stare a pensarci ma adesso ci penso e ma adesso farmi pensare e lo prendo dopo e aspettiamo e intanto le vincite galoppano e vi perdete le vincite nel lotto si gioca con costanza fiducia senza perdere neanche un'estrazione per l'arco del mese perché me ne vengono troppi adesso parliamo di software ma anche di previsioni che prendono una giocata si stancano la mollano in quel periodo che hanno mollato arriva la vincita riprendono vi vengono da me riprendono un'altra giocata e poi vengono a dirmi non si vince questa è la tarantella che avviene io cosa devo rispondere a questi cristiani se non mi mantieni la costanza nel gioco senza saltare l'estrazione perché se tu mi salti anche un'estrazione e in quell'estrazione arriva la vincita tu ti sei perso l'investimento iniziale più la vincita poi stai riprendendo il gioco quindi stai investendo altri soldi chiaramente la vincita il lotto è anche un gioco di attesa quindi magari non è che arriva sempre subito poi mi si viene a dir non si vince allora cari amici attenzione perché nell'otto ci vuole costanza nell'otto ci vuole costanza perché una vincita da capogiro come questa è stata ottenuta con la costanza nel gioco il software 3 il 12 luglio elaborava questa giocata ve la faccio rivedere col 79 cagliari nazionale i quattro abbinamenti ambo e due abbinamenti terno al primo colpo cari amici in un colpo di gioco un colpo 13 luglio sabato 79 12 79 10 doppio ambo secco e doppio terno secco 79 12 32 79 10 32 perché si abbina l'abbinamento terno 32 dove avete mai visto un esito del genere in un colpo di gioco un doppio ambo e un doppio terno vinto a ruota secca in un colpo di gioco non esistono programmi e metodi che danno un esito come questo non esistono e subito dopo il software 3 c'entra un ambosecco al secondo colpo contattati via whatsapp al 348 75 47 715 per avere la possibilità di acquisire il software 3 oppure gli fosse interessato ad acquisire anche il software 2 insieme ho il pacchetto dei miei programmi dei miei 10 software disponibili al momento perché sono dei prodotti che non si possono giocare non si possono non prendere io vi dico non aspettate perché poi arrivano le grandi vincite perdere e perdere se sapete quanti hanno perso questa vincita non avete idea quanti hanno perso questa vincita di questo doppio terno per non avere fiducia nel programma perché molti cosa fanno quando vedono che c'è il negativo quando vedono che è sortita solo lambata mollano il metodo mollano il software mollano la previsione saltano da proviamo questo proviamo quest'altro proviamo quest'altra ancora si va a disperdere il gioco si va a disperdere la finanza